Nella nuova giunta di Silvi varata dal sindaco Andrea Scordella non ci sono sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia con la Lega partito di riferimento del sindaco a fare la parte del Leone con gli assessorati strategici ai lavori pubblici all'urbanistica e con Fabrizio Vallescura di idea nel ruolo di vice sindaco e delegato alle politiche sociali e al personale. In totale sono cinque, tre uomini e due donne, gli assessori della squadra di governo del primo cittadino di Silvi che ieri mattina ha ufficializzato deleghe e incarichi. Pamela Giancola, come detto, seguirà i lavori pubblici e la viabilità e il suo collega di partito Gian Paolo Lella l'urbanistica e gli affari legali e la trasparenza. A Forza Italia sono andati due assessorati pesanti con Alessandro Valeriani, assessore al bilancio, al commercio e alle politiche comunitarie ed europee e Giuseppina Di Giovanni, delegata al turismo, alla cultura e all'istruzione. A Fratelli d'Italia, infine, è spettata la carica di presidente del Consiglio Comunale, affidata ad Antonio Gambacorta. Mentre restano nelle mani del sindaco Scordella le attribuzioni relative alla polizia municipale, alla protezione civile, alla sicurezza, allo sport, all'ambiente e alle manutenzioni, tema quest'ultimo su cui si è ampiamente speso nel corso della campagna elettorale. Abbiamo formato una squadra solida e competente per il futuro della città di Silvi, che unisce esperienze provenienti nella scorsa legislatura e facce nuove, ha commentato il primo cittadino, che a breve attende anche l'arrivo del leader della Lega, vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, che, come ha svelato in anteprima negli studi di TV6 la sera delle elezioni, vuole mantenere la promessa fatta a Modifioretto per la vittoria del primo sindaco leghista d'Abruzzo, arrivando a Silvi il prossimo 16 di luglio, salvo ovviamente imprevisti istituzionali dell'ultima ora. L'appuntamento con Salvini è alle 21 in Piazza Marconi a Silvi Marina.